ciao ragazzi bentornati su fabietwork se mi seguite in questo video oggi vi mostro come installare tramite questo tutorial chiaramente lo stop and go della btcino quindi il riarmo automatico del salvavita allora ragazzi prima di mettere le mani sul quadro elettrico vediamo un attimo come è fatto lo stop and go della btcino allora abbiamo detto che il riarmo automatico quindi avrà il suo riarmo automatico qui sulla sinistra qui in questa finestrella andrà accoppiato il salvavita che non è compreso nella confezione quindi andrà o acquistato a parte o messo quello che abbiamo nel nostro quadro elettrico badate bene che il salvavita deve essere adattabile allo stop and go quindi vedere prima di comprarlo se il vostro salvavita può essere inserito in questo stop and go se non lo fosse dovete acquistare separatamente il salvavita meglio chiaramente se è btcino guardiamolo più da vicino nella parte sopra troviamo una morsettiera l1 n1 linea neutro nella parte posteriore troviamo un'altra morsettiera dove troviamo l2 quindi la linea l'uscita n2 il neutro l'uscita f è il morsetto dove andrà applicata la terra 17 18 è la morsettiera dove andrà applicato se lo desideriamo un cicalino qui di lato troviamo quello che vi ho appena detto stampato sul salvavita come tutti i materiali della btcino devo dire che sono di un'ottima plastica con la presentazione direi che abbiamo detto tutto adesso ragazzi vediamo come si inserisce come si accoppia il salvavita allo stop and go è veramente molto molto semplice dobbiamo semplicemente far combaciare la leva del salvavita con la leva del stop and go quindi ragazzi mi metto a favore di inquadratura andiamo a vedere se riusciamo a farlo inquadrare il meglio possibile eccoci qui adesso ci rimane nient'altro da fare che premere questi due pulsanti ed abbiamo così unito il salvavita al stop and go se dovessimo toglierlo come da freccia basterà semplicemente ritirare solo la vita e ristaccarlo dunque ragazzi vi mostro con una prova da banco è più facile per voi intuire il collegamento e utile per me così provo il funzionamento dello stop and go allora quello che vado a simulare è quello che ci sarà nel quadro elettrico qui all'ingresso ci sarà fase e neutro io lo sto utilizzando una spina che chiaramente mi metterò nella presa per voi chiaramente questi saranno i cavi che vengono dal gestore elettrico acea enel o quello che vede all'uscita ci sarà invece il carico in questo caso io sto usando una semplice lampadina così visiva visivamente riesco a farvi notare il funzionamento allora quello che dobbiamo fare è e lo facciamo insieme ponticellare la prima l'ingresso quindi corrente staccata nel vostro caso contatore del gestore elettrico disarmato ponticelliamo la fase del salvavita la punticilliamo alla l morsetto l di linea del stop and go quello che sto facendo ragazzi fatelo anche voi prima chiaramente dell'installazione vera e prorio perché come potete vedere i morsetti sono rivolti sulla destra del salvavita quindi in pratica ci risulta veramente difficile inserire il carciavita e andare a fare questa piccola questo piccolo collegamento allora la fase l'abbiamo messa andiamo a mettere anche l'ingresso del neutro facciamo la stessa cosa abbiamo fatto con la fase finiamo di mettere il neutro morsetto n iniziamo il neutro e per quanto riguarda l'ingresso l'abbiamo sistemato ora ci andiamo a ponticellare l'uscita quindi la fase dell'uscita del salvavita con l2 ultima cosa che ci rimane è il neutro uscita del neutro salvavita lo mandiamo all'n2 della morsettina qui sotto ok ragazzi semplicissimo io non credo che serva ricapitolare allora ragazzi ho dato corrente all'impianto si può vedere dalla spia luminosa che ci indica per l'appunto che c'è corrente nell'impianto io ho attaccato la spina nel vostro caso avete armato il contatore andiamo a sollevare il stop and go si dovrebbe accendere chiaramente la lampadina lampadina funzionante quindi il carico è in funzione andiamo a simulare un cortocircuito ora premiamo il tasto test vedete ragazzi tempo brevissimo direi l'aria armato in automatico questo ragazzi lo fa per tre volte consecutive se la terza volta c'è un cortocircuito lui non prosegue lo lascia staccato chiaramente una misura di sicurezza se ci dovesse essere mai un cortocircuito dopo il terzo tentativo rimane staccato allora ragazzi una premessa fondamentale lasciatemela fare perché ogni volta mi dite sempre non vi prolungate troppo in questi video su youtube fateli in corti andate al sodo io cercherò di andare al sodo ma quando si parla di corrente elettrica qualche raccomandazione è d'obbligo ragazzi visto che in questo caso è un installazione semplicissima ma è così semplice rimanere anche folgorati allora ragazzi anche se noi andiamo a staccare il salvavita qui all'ingresso comunque troveremo la 220 perché è la corrente che viene dal vostro gestore elettrico quindi prima cosa fondamentale prima di mettere le mani la prima cosa fondamentale che dobbiamo andare a fare è quella di staccare la corrente dal vostro contatore da lì in poi siamo sicuri che non ci sarà corrente per una vostra maggiore sicurezza volete oltretutto staccare anche tutti quanti magnetotermici ragazzi siete liberi di farla allora ragazzi ripasciamo la prova da da montato ecco come vedete ha riarmato tutto quanto immediatamente funziona tutto allora ragazzi io vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale continuate a seguirmi ci saranno altri video simili ciao ragazzi